salve oggi voglio mostrarvi come risolvere questo anerebus leggermente più difficile di quello che risolsi in qualche video precedente dunque se volete sapere la procedura per capire come risolvere un anerebus vi invito a vedere il video anerebus 1 dove uno sta fra parentesi comunque iniziamo ad analizzarlo come notate si ha un'immagine in cui sono presenti delle persone ma le persone in questione sulle quali vogliamo focalizzare la nostra attenzione sono queste due donne via e sono amiche sono compagne ma ciò che le distingue da queste due persone e che non sono sono girate e in particolare non sono ragazze cioè non sono si vede che non sono giovani infatti la soluzione che ho io che effettivamente torna è donne gioviate quindi scrivendo in ordine sia ecco infatti la soluzione viene tendone a righe la quale abbiamo ottenuto associando alle due lettere h e l'anagramma di donne girate vi ringrazio per aver prestato attenzione e sono contento di aver mostrato la risoluzione di questo anerebus leggermente più difficile e meno intuibile rispetto al a quello del precedente video vi saluto e vi ringrazio alla prossima vi ringrazio a tutti